Mi aspetto una gara equilibrata, una gara contro una squadra che ha appena retrocessa e quindi ha ancora una buona struttura, ha acquistato giocatori importanti, giocatori che spesso hanno giocato in categoria superiore, quindi siamo consapevoli di incontrare una di quelle squadre che potrebbe essere protagonista come noi in questo campionato e quindi come sempre bisognerà fare una prova di spessore per avere la meglio. Nelle parole di mister Marcolini si possono comprendere chiaramente le difficoltà della gara in programma allo Stadio Fortunati contro il Cittadella, che rappresenta un'autentica prova del 9 per il collettivo pavese. Gli azzurri sono riduci da tre vittorie consecutive e cercheranno di dare l'assalto al primato della capollista Bassano, impegnato in un mess sulla carta abbordabile con il cuneo fanalino di coda del girone A di Lega Pro, appena sconfinti in rimonta domenica scorsa dagli azzurri. In settimana il direttore generale Bignotti ha rivolto un accorato appello alla tifoseria, affinché giunga numerosa sulle tribune del Fortunati a far sentire il proprio calore alla squadra come dodicesimo uomo da affiancare sul campo. Le maggiori preoccupazioni per Marcolini riguardano l'infermeria affollata, specie nel reparto d'attacco ridotto all'osso dalla sicura indisponibilità di Del Sante e Marchi, per i quali si prevedono tempi di recupero molto lunghi e la incerta condizione fisica di Anastasia, che potrebbe stringere i denti almeno per un posto in panchina, essendo alle prese con un affaticamento muscolare. Contro i Veneti verrà riproposto il consueto 3-5-2, marchio di fabbrica del tecnico Pavese, con il tandem offensivo composto da Ferretti, decisivo nel finale di Cuneo al rientro dopo due mesi di stop, e l'inamovibile Mago Cesarini, pronto nuovamente ad incantare la tifoseria azzurra con le sue giocate di classe. Nell'organico azzurro c'è poi uno degli ex di turno, Bellazzini, tre stagioni in serie B con i Veneti, che all'occorrenza può ricoprire anche il ruolo di seconda punta. Altro ex della gara è centrocampista La Camera, che giocò in maglia a Cittadella per alcuni mesi dopo la sua prima stagione al Pavia Calcio. I Veneti, guidati da Mister Venturato, giocano con il 3-5-2, che spesso però varia lo schema in un 4-3-3, e sono fra le favorite per la vittoria finale del campionato, ma hanno vissuto un avvio di stagione abbastanza altalenante, caratterizzato da una vittoria e due pareggi. Va però tenuto conto che devono recuperare la gara esterna contro la propatria. L'organico del Cittadella è molto equilibrato fra i vari reparti, con buona parte della rosa riduce dall'ultimo campionato di serie B, culminato con la retrocessione dei Veneti. Fra l'individualità spiccano il capitano Iori e l'attaccante Litteri, che vanta diverse stagioni nella serie cadetta, mentre il veterano sgrigna non dovrebbe essere della partita. Il match fra Pavia e Cittadella valido per la quinta giornata di campionato avrà inizio allo stadio Fortunati domani alle 17.30, e sarà diretto dal signor Pagliardini di Arezzo.